5, 4, 3, 2, 1, FUK IA! Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono Kai Allora oggi sono tornato con questo nuovo let's play per farvi vedere come sono messo con il villaggio Allora come muri ho 198 muri a livello 9 perciò 198 milioni 47 ancora all'8 e 5 al 10 Come difese mi sono totalmente maxato purtroppo mi manca l'ultimo cannone livello 13 da completare E come avete visto nell'intro ho fatto questo cannone qua livello 13 Poi dovrei portare su gli eroi Ma prima andiamo a fare subito un attacco in live per vedere cosa posso trovare E mettere a lavorare subito i miei muratori Skipiamo Allora No, 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 perché non ci sono risorse Allora ragazzi abbiamo finalmente trovato qualcuno da attaccare Purtroppo è un town hall 8 È l'unico villaggio che abbia un po' di bottino decente Purtroppo in questo ultimo periodo sono rimasto a oro Uno dato che avevo una marea di compiti e non sono riuscito a giocare E perciò sono sceso un po' di lega Perciò li prendiamo due depositi e scappiamo via Allora iniziamo subito a vedere se ha qualche truppetta di difesa No, dove è il castello? Non lo vedo Dove è il castello? Anche ce la va qua Niente truppe di difesa, niente trappole E si penetra subito l'oro ragazzi Ma sì, prendiamo tutto l'oro e scappiamo via Perché non ci servono gli altri Beh, non ha niente di risorse A noi basta arrivare solamente a 7.500.000 Per avviare il nostro prossimo canone livello 13 Dai, distruggete sti mortai Non fatemi fare una figuraccia qua Dai, su, su, su So che è scarsissimo ma non avevo più voglia di cercare Dato che era mezz'ora che cercavo Ormai qua le truppe basta metterle a caso Per prenderle tutte le risorse Non le faccio 100 che poverino dopo sto qua Dice, oh mio dio non salgo più di lega Intanto li abbiamo preso tutte le risorse E siamo arrivati giusto a 7.500.000 e facciamo resa Torniamo a casa Allora ragazzi Cosa possiamo andare Intanto chiediamo subito E torniamo subito su di lega Cosa possiamo andare a mettere a fare Mettiamo a fare I muri No, 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 no Mettiamo a fare un cannone livello 13 Mi si spezza il cuore a avviarlo Oh mio dio Mi si spezza il cuore Ho finito le risorse E mettiamo a fare anche la regina livello 27 Che praticamente acquisisce un pochino di danno in più E un pochino di difesa in più Veramente pochissimo Spero di farla più presto a livello 30 Oh cazzo No, 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 no Non spostarti E avviamo 3 2 1 Boom E cae totalmente senza risorse Come tornare su di lega ragazzi? Basta fare così Fare così E ci lasciamo a una disposizione da clanware Speriamo di tornare a master Prima di domani Allora ragazzi Questo era tutto per il video di oggi Spero che vi sia piaciuto Come al solito lasciate un like Un commento E noi ci vediamo la prossima volta